E di modellismo Scaler Arizona RTR in scala 1,18 con carrozzeria rigida, interni in scala, kit fari a LED e caricatore USB. SkyRC, analizzatore di performance con GPS, ti consente di misurare e analizzare le prestazioni del tuo automodello. Modelcraft, penna termica con 6 pellicole colorate. Può essere utilizzata su plastica, carta, legno, vinile e tanto altro ancora. Tamiya, della serie Educational, crawler in scatola di montaggio. Pesce meccanico, sempre in scatola di montaggio. Mini 4WD, supporto freno posteriore carbon 1,5 mm, jack pan cap 2021. Rotella alluminio HG, 19 mm, senza anello, jack pan cap 2021. Piastra in carbonio 1,5 mm, jack pan cap 2021. Piastra posteriore in carbonio 1,5 mm, jack pan cap 2021. Set di 4 cerchi e gomme low profile dual ridge. AK Interactive, edizione speciale, astuccio contenente 37 matite per invecchiamento. Grazie a tutti.